Allora, questo signore, io ero lì a fare il concerto, poi mi veniamo, va bene, mi dice, ma ti ha scritto l'inno, e lui mi dice, io ho scritto un inno a Ponte Nano, e lui mi dice, io ho scritto un inno a Ponte Nano, e mi dice, beh, tanto, ma non me lo faccio sentire, no, ce l'ho mia, ce l'ho un quadernino a casa, e lui mi dice, scrivi, un giorno sono andato a Ponte Nano, qui è un caldo, poi, a me si sta benissimo, vero? E io si sta bene, come si sta bene, si sta bene, e allora con questo quadernino, lui mi lesse il testo, e con la tastiera mi faceva sentire la melodia, va bene? Io mi sono scritto la melodia, l'armonia si è un po' concordata, l'ho cambiata, no, te l'avevo detto, un po', perché c'è delle parti in cui dice, per me si sta bene, per me si sta bene altra cosa, ma poi la trascrizione mi ho fatta io, e poi c'è anche l'ho sentito, l'ho sentito, con i midi file, ma sai, i midi file è tutta un'altra cosa, il bello dei midi file è che uno sbaglia una volta, mentre loro hanno chiamato la sbaglia una volta, però è trucco, sì, 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 allora, noi facciamo questo, inno a Ponte Nano, perché ho sbagliato, inno di Ponte Nano, invece l'abbiamo ancora detto, inno a Ponte Nano, vuol dire due parole? E poi ascolterete l'inno a Ponte Nano. Vorrei dire che prima di tutto non sono solo, ma c'è anche i parolieri, che è Ferrini Enzo, vorrei che venissi, è un po' concordato. a Ponte Nano, a parte un segno di un pezzo, ci si fa anche altre cose, cioè, si chiude con un pezzo che ho scritto per questo, lei è? Ferrini, Enzo Ferrini. Allora, allora, dopo c'è un pezzo per, quindi, dovete essere rimasti? No, perché il fine dopo di tutta la storia, il fine dopo di tutta questa storia sarebbe, questa, la prossima estate, di fare una grande festa sul Ponte Nano, si invita anche tutta la platea che può venire, si farà una rigliata in piazza, a Ponte Nano, penso, d'accordo, eh? Guarda. Se lì è proprio santo, devi vedere quanto è santo, eh? No, eh, si si organizzano qua, ma dopo si è organizzato per un'altra cento persone. Per ora io vorrei sentire il bastido. Ecco, eh? Sì, 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 ho visto, ho visto. Eeeh, legato al compisitore, grazie! Sì! Sì! Io so già che dopo il primo ritornello ci seguiranno tutti. Sì, sì, certo. Ma andate da con noi, eh? Esatto! Vuoi dire qualcosa? Io non ti lavoro. Perfetto. Io non vorrei che... Voi ridete, ma siamo un piccolo paese, e ci daremo da fare fortemente per vedere di realizzare questa griglia per tutti voi, e per voi vi siete presenti qui che vorrete venire. Si sta molto bene! E' una pianta bellina e potremmo stare bene! E quindi speriamo proprio di riuscire. Bene, allora, legionale Montenegro. Sì, sì, sì. Eeeh... 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 a A te, Mondiano A te, Mondiano Torno io ando, è la torre, forte mi richiama la campana Per il cuore di terra, assai lontana, vuole il grosso più via A te, Mondiano 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 Fimpa per sempre, Ponte Nano Chi l'amma in Dio, lo benedica Terra che suga, di fatica Sei nostro anche se sempre A te, Mondiano 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 Fimpa per sempre, Ponte Nano Grazie. Grazie.